Siamo finalmente in compagnia del nostro ospite a Futuramente, Vincenzo Schiettini, della Fisica che ci piace, grazie mille di essere insieme a noi oggi. A voi, grazie Giulia. Ultima curiosità mia, domanda Lampo Flash. Oltre alle materie STEM, quindi comunque alla Fisica, un'altra materia che ti appassiona, che però esce dal range? L'inglese, le lingue, le lingue, non c'ho manco bisogno di pensare, perché io ho, lo dico in inglese? Can I talk in English? Let's talk in English. Ok, it wasn't 5 anni fa, 6 anni fa, che ho iniziato il mio cammino durante la lingua. Perché quando ero 41, io sono 47, quando ero 41, non ho potuto parlare in inglese. E ora ho parlato in inglese come la seconda lingua. Questo perché ho sentito qualcosa in mezzo, ho sentito una scelta, perché ho bisogno di trovare, to fill up a gap. That was a gap for me, the language. And then I started my journey by using YouTube, by using YouTube channels. And now I'm able to talk in English. So voglio dire ai ragazzi, sfruttate quest'altra cosa, l'inglese, lo spagnolo, quello che vi pare, il pugnese. I dialetti anche. I dialetti. Cioè sfruttatevi, perché c'è talmente tanto da poter fare, che il limite siamo soltanto noi, quando ci diciamo che siamo limitati. Noi non abbiamo limiti, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Dobbiamo volerlo, e dobbiamo darci da fare. Sudore e sangue, ma tu poi arrivi a un nuovo io. Ti cambi. Grazie mille a Vincenzo Schiettini per l'ispirazione. A voi Giulia, grazie al Gifoni Hub per avermi invitato. Io sono felicissimo di essere qua. A presto. Ciao.